Ladri scatenati in città e colpo grosso in via Raffalda dove i soliti ignoti hanno sfondato la porta di un'abitazione a martellate e poi con il flessibile hanno aperto la cassaforte portando via 1.500 euro in contanti, orologi di marche e gioielli per un valore complessivo di oltre 10.000 euro. In azione è probabilmente una gang specializzata, nessuno dei vicini ha sentito nulla, a rientro i proprietari hanno fatto la mara scoperta e chiamato la polizia. Modalità simili in via Mazzoni dove i ladri sono però entrati in un appartamento forzando la porta a balcone e rubando gioielli e tablet, indaga la questura. Al campo da calcio della Farnesiana in via di Vittorio invece i ladri hanno fatto razzia negli spogliatoi mentre le squadre erano in campo, cellulari, orologi, giubbotti e pochi euro nel bottino. Anche di questo caso si sta occupando la polizia.